Gli osprecari pugliesi potrebbero ottenere una proroga fino al 31 marzo 2021 dei contratti scadenza a fine gennaio e questo è il dato emerso nel corso dei lavori della Commissione Sanità convocata dal Presidente Mauro Vizzino. L'attesa dei lavoratori che continuano il loro presidio presso la sede della direzione dell'ASL di Brindisi ha portato ad un primo seppur minimo risultato che dovrà essere confermato nelle prossime ore. Tale proroga infatti consentirà di ricevere tutti i dati dalle singole ASL in relazione al fabbisogno di personale in particolare di ossa e allo stesso tempo di svolgere funzioni di affiancamento nei confronti di coloro che risultano vincitori del concorso di Foggia. Contemporaneamente si completerà una ricognizione su quanti ossa a tempo determinato hanno maturato le condizioni previste per legge per ottenere la stabilizzazione sulla base di quanto previsto dal Decreto Mille Prologhe. Scongiurato quindi probabilmente la fine imminente lavorativa prevista il 31 gennaio ora si apre un lasso di tempo breve ma fondamentale per dare delle soluzioni concrete alla richiesta di stabilizzazione di numerosi prechiari che chiedono un riconoscimento formale anche ai tanti rischi e sacrifici fatti in questa fase di emergenza sanitaria. La Commissione Sanità preseduta da Mauro Vizzino tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per valutare tutti gli sviluppi di questa vicenda.